Un evento che da anni promuove i valori dello sport e di corretti stili di vita, l'etica sportiva come modello educativo per i più giovani. Piazza Napoleone, nel Centro Storico, ospita sabato e domenica la tappa regionale del CSI in Tour della Toscana. Due giorni di sport e sano divertimento con ingresso gratuito per tutti e omaggio per bambini e ragazzi, un villaggio itinerante dello sport dove si potranno sperimentare dimostrazioni e tornei di molte discipline, tra cui basket, pallavolo, calcio 3x3, danza, arti marziali, dodgeball, rugby, giochi di attività ludico, motore e animazione. Tutto questo insieme a incontri tematici di approfondimento su sport, alimentazione, cultura della salute, disabilità, inclusione, etica e disagio giovanile. Si tratta di uno dei più importanti appuntamenti riguardanti lo sport di base e coinvolge diverse migliaia di ragazze e ragazzi in 40 giornate su tutto il territorio toscano. La tappa lucchese è stata presentata dal Centro Sportivo Italiano, che quest'anno taglia il traguardo degli 80 anni di esistenza e di attività in Italia. L'edizione 2024 di CSI in Tour è dedicata alla figura della dirigente regionale Paola Garvin, prematuramente scomparsa, che fu artefice dell'ideazione e della realizzazione della manifestazione. Un'occasione dove si sviluppa concretamente quello che è un po' la missione del Centro Sportivo Italiano, quella di educare attraverso lo sport. Tra l'altro quest'anno il progetto si inserisce all'interno delle celebrazioni per l'ottantesimo del Centro Sportivo Italiano, l'ottantesimo anniversario. Lo celebraremo per tutto l'anno. Noi siamo nati nel 1944, quindi siamo sostanzialmente l'ente di promozione più antico che c'è in Italia, quindi una grossa esperienza, in particolar modo nel settore giovanile.